Perché un uomo compra una Lamborghini secondo me? Perché compra una Ferrari? Perché compra una Porsche? Per scopare. Perché la figa vede Lamborghini e pensa ricco. Allora voglio dire sarà una puttana? No, è una che vuol stare comoda. Si sta più comodi su una bella macchina che su una 500. Per cui un buono scopatore ha anche una 500, ma se ha solo una 500 scopa poco. Io posso dire la verità, su queste macchine che lui è avvocato spesso si sta scomodissimi, non è che si sta bene. Si sta molto meglio su un grande SUV per esempio. Comunque aspetta, aspetta, mica finita. La mia torpedo blu, dice Gaber, che non era un maschilista, io sono maschilista, quindi per me la donna deve essere dominata, punto. Ma Gaber, che era invece un uomo più democratico di me, dice vengo con la mia torpedo blu, perché una donna se vai con una macronetta di merda ti guarda come uno stronzo. Cosa c'è per il povero per lo scoglio? Uno che è ricco deve pagare, ma non è che paga perché paga una troia, paga perché ha il dovere, essendo ricco, di essere generoso. Quando ero ragazzo, io seducevo le ragazze con la parola, ma molti miei compagni avevano la Kawasaki, la Honda, perché anche la motocicletta è uno strumento erotico. E la ragazza la vede si eccita di più. Con un botolino, con un ciao, scopi poco. E sono sicuro che la Morghini se ne scopate tante, anche in virtù del nome. Infatti, bravo! Io invece non ho fatto un botolino, ma scopo lo stesso. Da Roma a Candida!